uno viene chiamato il signore l'altro viene chiamato il conte uno ha sullo stemma un elefante simbolo di sapienza e di comando l'altro ha sullo stemma un'aquila un segno imperiale che dalla roma antica ha attraversato le epoche le loro famiglie si odiano da secoli e loro due alimenteranno questo odio cercando di farsi fuori a vicenda per tutta la vita uno è sigismondo pandolfo malatesta signore di rimini l'altro è federico da montefeltro conte di urbino per conoscerli meglio partiamo dai loro ritratti dipinti da uno degli artisti più importanti del rinascimento piero della francesca che ha lavorato per tutti e due sigismondo malatesta e di profilo su uno sfondo nero le labbra sottili e strette lo sguardo sprezzante che non ispira molta fiducia anzi fa un po paura il ritratto di federico invece è più colorato con il berretto e il vestito rosso che spiccano su un paesaggio luminoso è un ritratto del suo profilo sinistro come tutti i suoi ritratti perché un giorno durante una giostra la lancia dell'avversario gli sfonda l'elmo gli spacca il naso e gli strappa l'occhio destro da allora federico tiene nascosto quel lato della sua faccia a parte l'odio reciproco e l'artista preferito i due hanno altre cose in comune l'età ci sono pochi anni di differenza se gismondo è più vecchio di cinque anni poi sono tutti e due figli naturali legittimati in seguito e sono anche legati da un intreccio di parentele intricatissimo il loro duello inizia qui nella rocca di san leo tra marche e romagna lungo il confine che separa i loro territori e durerà più di vent'anni la casata dei montefeltro contro quella dei malatesta si ritrovò per 22 anni in una guerra durissima senza mai avere pace ma solo qualche tregua sospetta e male osservata tra colpi di mano assassini congiure acrobazie diplomatiche e capolavori di grandi maestri la cronaca di quel duello è una delle più affascinanti del rinascimento la cronaca di San Antonio La cronaca inizia nel centro dei domini di uno dei due protagonisti, quella è Urbino che ruota attorno al palazzo ducale annunciato dalle due torri circolari. Quando Federico nasce nel 1422, Urbino non è ancora un ducato, è una contea guidata dal padre di Federico, Guida Antonio. Federico è un figlio illegittimo, perché dal primo matrimonio di suo padre, con una mala testa per inciso, non sono nati figli. Non ne nascono neanche dal secondo matrimonio, per otto lunghi mesi. Allora Guida Antonio chiede al papa una bolla speciale per legittimare Federico. La bolla arriva, Federico è un figlio legittimo finalmente, ma poco tempo dopo la seconda moglie resta incinta e nasce un bambino a cui viene dato nome Odd Antonio. Riassumendo, l'erede ufficiale, il primo nella linea di successione è Odd Antonio, ma se Odd Antonio non ha parafigli, allora la contea toccherà a Federico. Una curiosità, anche di Odd Antonio conosciamo il volto grazie a Piero della Francesca. Secondo molti è lui il giovane uomo biondo con la veste rossa ritratto nella flagellazione. Ad ogni modo quando attorno al 1440 ricominciano le guerre tra i Malatesta e i Montefeltro, Odd Antonio è un ragazzino di 13 anni. Così il vecchio conte affida la difesa dei suoi territori al figlio maggiore Federico. Tanto per rendere l'idea di come funzionano le cose della vita in quel periodo, quando Federico viene investito del comando ha 19 anni, mentre il suo avversario Sigismondo ne ha 24. Ora, prima di addentrarci nella cronaca del duello tra i due, dobbiamo capire come funzionano le signorie, quali sono i territori dei Malatesta e dei Montefeltro e quali sono le ragioni delle guerre. La signoria è una forma di governo monarchico che sostituisce nelle città italiane le istituzioni dei comuni, diventati ingovernabili a causa delle continue lotte fra fazioni. Per essere pienamente legittima, la signoria deve essere riconosciuta come tale da un'autorità superiore, l'impero o la chiesa. I signori possono anche arruolare eserciti e metterli al servizio di chi li paga. La contea di Urbino, più tardi trasformata in Ducato, appartiene ai Montefeltro e occupa a parte delle Marche, dell'Umbria e della Romagna, ed è legata da vincoli di vassallaggio allo stato della chiesa. I domini dei Malatesta comprendono Cesena, Rimini, alcuni castelli nel Montefeltro e Fano, nelle Marche. Per questioni ereditarie, Cesena va a Domenico Novello, fratello di Sigismundo, mentre Sigismundo, a 15 anni, diventa signore di Rimini e si tiene tutto il resto. Formalmente anche i Malatesta sono soggetti allo stato della chiesa. Gli scontri tra le due famiglie confinanti sono continui, ma non si tratta solo di faide locali. Le Marche, l'Umbria e la Romagna sono il terreno su cui combattono le loro guerre Venezia, Milano e Roma. Chiusi tra queste potenze, i Malatesta e Montefeltro devono scegliere con attenzione da che parte stare. Una scelta di campo sbagliata può significare la rovina delle loro dinastie. Da Urbino siamo venuti a Rimini, nella tana dell'altro duellante, Sigismundo Malatesta. E per capirne il carattere basta guardare questo castello, la sua residenza. Lui dà il suo nome, Sismondo, abbreviazione di Sigismondo. Questo è Castel Sismondo. E il nome Sigismondo Malatesta è scritto in caratteri gotici, a sinistra e a destra, dello stemma, sormontato da un cimiero a testa d'elefante. Il castello era protetto da un fossato, da un ponte-elevatoio, da una doppia cinta di mura, le finestre sono poche e strette. Insomma, più che un palazzo è una fortezza, cupa, minacciosa, chiusa verso il mondo esterno, niente a che vedere con l'eleganza ariosa di Urbino. D'altra parte, a proposito di memorie e cupe, un antenato di Sigismondo è quel Gianciotto Malatesta che sorprese sua moglie Francesca mentre lo tradiva col fratello Paolo. Gianciotto uccise moglie e fratello, come racconta Dante, nel quinto canto dell'Inferno quando mette in bocca a Francesca alcuni dei versi più belli e famosi della letteratura di sempre. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Caina è quella parte dell'Inferno che attende i traditori e gli assassini dei parenti ed è dove dovrebbe andare a finire Gianciotto secondo la profezia di Francesca. E sembra quasi che ci sia un'abitudine al tradimento nella famiglia Malatesta, una tradizione che Sigismondo continua perché è proprio un tradimento ad accendere la scintilla del duello tra lui e Federico da Montefeltro. L'anno è il 1441, Federico sta assediando il castello di Montelocco che rifiuta di sottomettersi ai Montefeltro. Tradendo la sua promessa di neutralità, Sigismondo lo attacca. Federico viene ferito in un'imboscata ma alla fine riesce a reagire e a ribaltare le sorti dello scontro. Il duello è innescato. Anche questa rocca, la rocca di San Leo, è citata da Dante nella Divina Commedia. È appartenuta storicamente alla famiglia Montefeltro. Verso la metà del Trecento però passa in Malatesta, che la tengono per circa un secolo, fino a quando Federico da Montefeltro, che come abbiamo visto ha solo 19 anni, compie un'impresa incredibile. Per punire il suo rivale, per vendicare il tradimento e per dimostrare al mondo di che pasta è fatto, Federico con delle scale si arrampica lungo le pareti a picco e prende la rocca, un nido d'aquila considerato fino a quel momento imprendibile. Tolse San Leo e la Rocca, che furono espugnati tramite una scalata terribile e a così tanta altezza, che nessuno aveva mai avuto il coraggio di tentare. Preso atto della doppia battuta d'arresto, Montelocco e San Leo, Sigismondo se ne sta tranquillo per qualche tempo, poi torna all'attacco, cambiando strategia. Il secondo atto del duello ha come centro dell'azione Urbino. Due anni dopo la presa di San Leo, il vecchio conte muore e Sigismondo Malatesta vuole approfittare della situazione per prendersi la contea. Ma il Papa Eugenio IV lo ferma, trasformando la contea di Urbino in Ducato ed assegnandola in modo permanente ai Montefeltro. Il Papa vuole creare uno stato cuscinetto che lo separi dai domini di Sigismondo Malatesta e dal suo suocero e alleato Francesco Sforza. Il primo duca di Urbino è il fratello minore di Federico, il giovane Odd'Antonio, il ragazzo biondo vestito di rosso della flagellazione di Piero della Francesca. Ha solo 16 anni e non è in grado di affrontare la crisi. Le spese militari e quelle diplomatiche hanno svuotato le casse di Urbino. Lui è costretto ad aumentare le tasse. Girano anche delle strane voci sui suoi cattivi consiglieri accusati addirittura di aver violentato delle donne. Insomma, il malcontento cresce e lui non è in grado di tenerlo a bada. Così, una notte di luglio del 1444, un gruppo di congiurati fa irruzione nel palazzo, lo sveglia, lo trascina davanti a un crocefisso, lo fa inginocchiare, lo pugnala e poi lo finisce tagliandogli la testa. L'ammazzarono i cittadini d'Urbino perché aveva fatto e faceva poco onore alle donne loro, di notte e di giorno. La cronaca dice chiaramente che sono stati gli urbinati a uccidere Odd'Antonio, ma dove c'è una congiura c'è un retroscena ed in questo caso gli interessi di Sigismondo e quelli di Federico coincidono, perché a tutti e due la morte di Odd'Antonio fa comodo. Da una parte c'è Sigismondo, che da sempre vuole mettere le mani sui domini dei Montefeltro, così alcuni pensano che sia stato proprio lui a infiltrare qui, nella corte di Urbino, i cattivi consiglieri con il compito preciso di rovinare il Duca. Dall'altra parte, altri pensano che invece sia stato Federico a alimentare la congiura, perché si sente messo ai margini del Ducato nonostante il suo valore. Che sia stato l'uno o che sia stato l'altro, è riuscito a tenere la verità ben nascosta e noi non la sapremo mai. Ora, lasciando perdere le congetture e tornando ai fatti, Federico è a Pesaro quando riceve la notizia della morte del fratello e subito si precipita a Urbino. Con tanto di giuramento pubblico sull'ostia consacrata, Federico garantisce l'impunità ai congiurati, cioè agli assassini di suo fratello, il che non depone molto a favore della sua innocenza, anzi giustifica il soprannome di Caino che gli viene affibbiato sotto voce. Tutto considerato, anche il secondo round del duello è andato a Federico, che si ritrova a padrone di Urbino, che è riuscito a fermare Sigismondo e anche a scombinare le sue alleanze. La vittoria di Federico diventa ancora più netta quando il Papa, che in fin dei conti vuole ordine da queste parti, promuove una tregua tra i due. Una tregua che, come al solito, dura pochissimo perché Sigismondo con il suo esercito viene a Urbino e assedia la città e addirittura sfida a duello Federico. Federico accetta, facciamolo subito, dice, vediamocela tra noi due. E a questo punto i cronisti dicono che Sigismondo si tira indietro. Nonostante le forze del conte Federico non fossero pari a quelle dei nemici, fu subito mandato loro il guanto della battaglia con grandi solennità di trompe. Così il conte Federico, attraverso l'araldo, invitò il signor Sigismondo a battersi con lui quel giorno stesso, cosa che lui non accettò. Sigismondo ha rifiutato il duello con le armi e allora Federico gli rifila una stoccata diplomatica particolarmente dolorosa. Sigismondo ha sempre desiderato Pesaro per mettere in comunicazione i suoi domini romagnoli con quelli marchigiani. Federico la compra dal cugino di Sigismondo, Galeazzo Malatesta, con cui è sempre andato d'accordo e che tra l'altro è suo zio. Poi però non tiene Pesaro per sé, la cede agli sforza che a questo punto sono in rotta con il signore di Rimini. La frustrazione di Sigismondo è resa ancora più amara dalla situazione tra gli stati italiani, che in quel momento sono divisi su due fronti. Da una parte ci sono Milano, gli sforza, Napoli, gli Aragona e il Papa. Dall'altra parte ci sono Venezia, Firenze e gli Angiò, che vogliono riprendersi Napoli dagli Aragonesi. Sigismondo sta servendo gli Aragonesi, che però si sono alleati con gli sforza, proprio quelli che li hanno portato via a Pesaro. Allora lui li molla senza neanche restituire l'anticipo che gli Aragonesi gli hanno dato. Gli Aragonesi a questo punto giurano di fargliela pagare, ma lui non se ne resta con le mani in mano, torna a concentrarsi su un nemico di sempre, Federico da Montefeltro, e cerca di farlo fuori con una congiura spettacolare, la congiura di Carnevale. Il signor Federico di Urbino doveva essere o preso o ucciso dagli urbinati, su richiesta del signor Sigismondo di Rimini, usando le maschere di Carnevale. L'idea di Sigismondo di mandare i congiurati ad assassinare Federico durante il ballo di Carnevale con le maschere sulla faccia è un colpo di teatro, ma nonostante la creatività fallisce. Sembra che le cose siano andate così. I congiurati, per tenersi in contatto tra di loro, usano una popolana, che è al servizio di una signora invitata a quel ballo. La popolana non sa come dire alla sua signora di non andarci, e così le spiffera tutto. A questo punto la signora va da Federico e lo informa dei fatti. Federico cattura i congiurati e li fa decapitare in piazza. L'anno della congiura di Carnevale è il 1446, ne sono passati cinque dall'inizio del duello. A questo punto i due si prendono una pausa e ce la prendiamo anche noi per conoscere un altro aspetto delle loro vite, perché oltre agli intrighi e alle battaglie, il prestigio dei principi rinascimentali si misura anche con lo splendore delle arti nelle loro corti. Così continua la sfida di Federico e Sigismondo su questo terreno e per raccontarla dobbiamo rimbalzare tra Urbino e Rimini. Visto che siamo Urbino, cominciamo da qui, da questo palazzo. Federico edificò un palazzo che era il più bello che in tutta Italia si ritrovi. Pareva non un palazzo, ma una città in forma di palazzo. La fama di Federico si diffonde in tutta Europa grazie a questo palazzo che lui fa costruire, ampliare, abbellire e grazie alla sistemazione urbanistica di Urbino che diventa la città del principe per eccellenza e richiama alla memoria un'opera simbolo del rinascimento italiano, la città ideale di autore sconosciuto conservata qui. Insomma, con Federico viene dato un impulso enorme alla fioritura delle arti e che porterà alla nascita qui nel Ducato di talenti come Bramante e Raffaello. L'opera architettonica più famosa del suo rivale Sigismondo Malatesta invece non è un palazzo, è una chiesa, ma lui preferisce chiamarla Tempio. Il signor Sigismondo, con grande amore e sollecitudine, faceva lavorare a un magnifico e superbo Tempio che doveva accogliere la sepoltura sua e di Madonna Isotta. Questo è il Tempio malatestiano di Rimini progettato da Leon Battista Alberti e rimasto incompiuto. La facciata ricorda gli archi di trionfo romani e le grandi nicchie avrebbero dovuto accogliere i sepolcri di Sigismondo e di sua moglie Isotta. Il recupero delle forme classiche è comune a tutto il Rinascimento, ma qui quello che colpisce è l'assoluta mancanza di elementi religiosi. Del resto anche la scelta della parola Tempio invece della parola Chiesa la dice lunga sulle intenzioni di Sigismondo che vuole costruire soprattutto un monumento a se stesso. Queste intenzioni sono evidenti nei fregi lungo la facciata, ci sono le iniziali di Sigismondo e di sua moglie Isotta, S e I, c'è il simbolo della famiglia Malatesta, l'elefante, c'è lo stemma dei Malatesta, ma le intenzioni celebrative sono ancora più evidenti all'interno. In questo affresco di Piero della Francesca si vede Sigismondo inginocchiato davanti al suo santo protettore, San Sigismondo, che ha le fattezze di Sigismondo del Lussemburgo, l'imperatore che lo ha nominato cavaliere e ha legittimato la sua dinastia. Dietro poi ci sono due cani, uno bianco e uno nero, secondo alcuni simboli di fedeltà e di vigilanza. Il mecenatismo di Sigismondo Malatesta però non è soltanto egocentrismo, è anche un uomo di lettere, scrive dei versi per la sua amatissima moglie Isotta. Ma questo tempio, con i suoi simboli strani e ambigui, con le rappresentazioni dei segni zodiacali, con gli amorini, con figure che sembrano richiamare al mondo delle divinità pagane, è quasi una sfida al cristianesimo al Papa, una sfida che segnerà il suo destino. Costruì un nobile tempio a Rimini in onore di San Francesco, ma lo riempì di tante opere pagane che non sembra un tempio di cristiani, ma di infedeli adoratori dei demoni. Anche a Urbino Federico affida la sua immagine a Piero della Francesca, in particolare c'è una pala, oggi conservata a Milano, a Brera, in cui lo si vede in preghiera. Accanto c'è un elmo ammaccato che ricorda l'incidente in cui ha perso l'occhio. Poi Federico chiama a Urbino molti altri artisti, Paolo Uccello, Luca della Robbia, Giovanni Santi, il padre di Raffaello, che scrive un poema per esaltare le sue vittorie su Segismondo. C'è anche un verso famoso in quel poema, quando all'alifante il cor, l'aquila morse, cioè quando l'aquila di Federico morse il cuore all'elefante di Segismondo. Come tutti i signori rinascimentali, come anche Segismondo, Federico è un letterato a una grandissima biblioteca e passa molto tempo a leggere nel suo studiolo qui nel palazzo. Ora che abbiamo raccontato la passione per le arti, dobbiamo riprendere il filo della storia e del duello, perché dopo qualche anno di quiete, in Oriente, succede qualcosa che rimescola le carte. 29 maggio 1453. Dopo più di un millennio dalla sua fondazione, Costantinopoli viene presa dai turchi guidati da Maometto II. L'impero romano d'Oriente, da tempo ridotto a un fazzoletto, non esiste più. Gli ottomani avanzano verso Occidente, minacciando i domini veneziani nell'Egeo. Priva delle risorse necessarie a combattere su due fronti, Venezia tratta la pace con Milano. 9 aprile 1454. Viene firmata la pace di Lodi. Il confine tra Venezia e Milano è stabilito lungo il fiume Adda. Tra vari scambi territoriali, Venezia riconosce Francesco Sforza come duca di Milano. 30 agosto 1454. Nasce la Lega Italica tra Venezia, Milano e Firenze. In seguito aderiscono alla Lega il Papa e il Re di Napoli, Alfonso d'Aragona. Il trattato prevede un'alleanza difensiva della durata di 25 anni e un patto di non-aggressione tra i firmatari. Negli accordi sono inclusi quasi tutti i principi italiani, amici o vassalli, dell'una o dell'altra potenza. Su richiesta di Federico da Montefeltro, Alfonso d'Aragona pretende l'esclusione dagli accordi di Sigismondo Malatesta. Il Re di Napoli punisce così il Signore di Rimini che gli ha voltato le spalle e non ha restituito i soldi della condotta ricevuta in anticipo. Escluso dai trattati, debitore insolvente e marginato dai giochi di potere, Sigismondo se ne sta chiuso nel suo castello. Per risolvere la questione del debito con gli Aragonesi interviene il nuovo Papa, Pio II, che in cambio però gli detta delle condizioni umilianti. Sigismondo deve cedere Senigallia e tutti i territori conquistati. Sigismondo glieli consegna ma il Papa non li tiene per sé come d'accordo. Li cede a Federico da Montefeltro, il nemico di sempre. È un rospo che Sigismondo non riesce ad ingoiare, si ribella e si riprende i suoi territori. Il Papa lo invita più volte all'obbedienza, poi lo scomunica, poi lo accusa formalmente di eresia e di aver assassinato le prime due mogli. Alla fine lo condanna a morte. E la condanna viene eseguita simbolicamente bruciando su un rogo un'immagine di Sigismondo sui gradini della Basilica di San Pietro a Roma. Sulla cima di una grande pira fu posta un'immagine di Sigismondo talmente fedele da sembrare lui. Tuttavia, perché nessuno si ingannasse, uno scritto diceva io sono Sigismondo malatesta, re dei traditori. La cronaca in questo caso è senz'altro fedele perché il cronista è niente meno che il Papa stesso, Pio II, il cui nome al secolo è Enea Silvio Piccolomini, autore dei commentari. Ed è proprio lui che oltre alla condanna a morte simbolica pretende anche quella vera e manda ad eseguirla un esercito guidato da un suo uomo di fiducia il quale, manco a dirlo, è Federico da Montefelti. Avuta la notizia Sigismondo scappa di notte con i suoi armati ma viene intercettato sulle rive del fiume Cesano, tra Ancona e Pesaro e viene sconfitto. Da lì, allora fugge a Fano e si imbarca per Venezia dove chiede aiuto per ottenere il perdono papale. Intanto Fano e tutti gli altri suoi possedimenti fino a Gradara si arrendono a Federico. L'anno è il 1463 e ne sono passati 22 dal primo scontro alla Rocca di San Leo. Il duello è finito e il vincitore è Federico da Montefeltro. Non si capisce bene dal tono della lettera che Sigismondo manda al Papa. Inizia così, vinto come sono. Vinto come sono, chiedo la pace, pronto ad accettare o subire quelle condizioni che avrai stabilito. Confesso di avere gravemente errato contro la tua autorità sovrana. Ho pagato però con pene e condanne, certo non leggere. Sigismondo si dice disposto ad accettare e addirittura a subire tutte le condizioni del Papa che sono molto più dure rispetto a quelle di prima. per concedere la grazia più secondo impone tra le altre cose il pagamento di un tributo annuo di mille ducati d'oro, la restituzione di tutte le terre prese allo stato della Chiesa, la biura dell'eresia, la riduzione della signoria alla sola Rimini e a poche terre circostanti. Sigismondo deve anche accogliere un vescovo mandato da Roma per togliere l'anatema alla città. Umiliato e impoverito Sigismondo passa al servizio dei veneziani e per conto loro va a combattere in Oriente in Morea poi torna a Rimini dove muore nel 1468. Gli succede il figlio Roberto che chissà se con o senza la benedizione del padre sposa la figlia del rivale Federico. Secondo la tradizione della casa per comandare da solo Roberto fa fuori i suoi fratelli ma il declino dei Malatesta ormai è inarrestabile. Questo tempio rimasto incompiuto ne è la prova più evidente. Passa poco tempo e Rimini entra a far parte direttamente dei domini dello Stato Pontificio. Nel 1482 Federico viene ferito in battaglia viene trasportato a Ferrara dove muore all'età di 60 anni. Gli succede il figlio Guido Baldo che di anni ne ha dieci e sarà l'ultimo dei Montefeltro. Dopo il Ducato passa ad un'altra famiglia fino a circa la metà del Seicento quando anche Urbino come Rimini viene definitivamente assorbita dallo Stato Pontificio. Questo è l'epilogo delle vicende del Signore e del Conte ma dopo aver raccontato gli intrighi le congiure le battaglie viene da chiederci cos'è che rende questa storia davvero unica. qual è l'immagine che più di tutte ci portiamo dentro forse quella da cui siamo partiti i ritratti dei due dipinti da Piero della Francesca per noi oggi Federico e Sigismondo sono loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.